Mi chiamo Gioia Cresti e sono l'enologo e il proprietario dell'azienda della fattoria Carpi di Taffontalpino. Lavorare con il vino vuol dire passione, vuol dire fierezza, vuol dire costanza, vuol dire tanto impegno che ti ripaga costantemente perché è un lavoro, io dico sempre, il lavoro più bello del mondo che ti dà grandi soddisfazioni perché vedi esattamente ciò che crei. La mia iniziazione alla terra è stata, non lo so, forse di nascita perché volevo fare questo, avevo un'azienda, l'azienda è di famiglia, però nessuno se ne occupava più e quindi io avevo deciso di riportare l'azienda a Antichi Splendori e così ho ricominciato a lavorare con la terra. Sono molto orgogliosa di lavorare con la terra perché è un lavoro nobile, è un lavoro che veramente ti rimette a contatto con il mondo perché sai che è un impegno enorme ma sai che puoi avere dei frutti bellissimi.